Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Ritorniamo a parlare dell'intricato caso di Pierina Paganelli. Nel condominio tutti sapevano della relazione tra Luis e Manuela, quindi l'idea che Pierina sia stata uccisa per evitare che scoprisse la storia clandestina appare debole, bastava chiedere ai vicini per ottenere informazioni. Questo porta a ritenere che il movente sia più probabilmente di natura economica, legato a casa, denaro e prospettive future, la certezza che Luis da Silva sia l'autore del delitto vacilla. Emblematico è il messaggio inviato da Manuela a Luis il 28 settembre, dove esprime disperazione e lo definisce il suo «eroe», invitandolo a trovare una soluzione. Questo segnale di sconforto potrebbe far pensare a una crisi che ha portato a una decisione estrema. Un ulteriore indizio è emerso durante un confronto in questura, il 4 ottobre, quando Manuela, terrorizzata dall'idea di un arresto, si confida con Luis dicendogli «ho paura che ci arrestino». Lui risponde menzionando anche Loris, suggerendo così un possibile coinvolgimento di più persone. Tuttavia, Manuela minimizza, affermando di essere preoccupata solo per lei e Luis in quel momento. Un altro elemento significativo è un messaggio di Manuela del 28 settembre, «C'è solo un modo per risolvere il problema e tu lo sai». Interpretare questa frase come un riferimento diretto all'omicidio di Pierina sembra improbabile, vista la complessità della situazione. Quella tragica serata in casa di Manuela è stata caratterizzata da movimenti sospetti e contraddizioni. La procura ritiene che Luis abbia avuto solo sette minuti per commettere l'omicidio, gettare l'arma e rientrare. Un tempo sufficiente, ma che lascia molte domande aperte. Secondo la ricostruzione, Manuela sostiene di non aver mai perso di vista il fratello, ma Loris mette in dubbio questo racconto, chiedendosi cosa abbia fatto Manuela durante quei dieci minuti in cui è stata in bagno. C'è anche il messaggio che Manuela ha inviato a Loris solo venti minuti dopo che lui avrebbe lasciato casa, per accertarsi che fosse arrivato a Riccione. La risposta di Loris, sono già a letto, sorprende. Come avrebbe potuto fare tutto quel tragitto e già essere a letto in così poco tempo? Questo lasso di tempo sembra insufficiente per compiere tutte le azioni necessarie. La procura punta molto su un filmato delle 22 e 17, registrato dalla telecamera di una farmacia, che mostra una figura con un oggetto sotto il braccio, ipoteticamente Luis. Ma le discrepanze e le testimonianze alternative rendono questa prova meno solida. Nonostante tutto, Luis ha scelto il silenzio, seguendo il consiglio degli avvocati. Manuela e Loris sembrano prendere le distanze, mentre lui continua a tacere, forse sperando che la verità venga a galla da sola. Alla fine, la domanda è la seguente. Cosa sanno veramente Manuela, Loris, Valeria e Luis che non è ancora emerso? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore!